Ciao, siamo arrivati. La magia della PNL, sabato 16 novembre 2019. Vivrai un'esperienza straordinaria perché ci occuperemo dell'ancoraggio. Cos'è l'ancoraggio? È un condizionamento neuroassociativo. Partiamo dal fatto che nel corso di vela, mi ricordo il maestro che diceva non si butta l'ancora ma si cala l'ancora. Infatti diceva alla moglie non si dice butta la pasta, se non la butta ma si cala la pasta. Questo per dire che cosa? Ci sono dei momenti storici, momenti bellissimi della nostra vita connessi a cosa? Alla parte olfattiva, alla parte gustativa, alla parte uditiva e anche cinestetica. Che vuol dire? Ascolti una musica di 30 anni fa e ricordi addirittura il ballo con tua moglie, con la tua donna, col tuo uomo, quello che sia. Ma la cosa fantastica è anche assaggiare un cibo e ricordare mamma, nonna in quello specifico momento. È stupendo quando la memoria è connessa agli ancoraggi. Quindi dicevo condizionamento neuroassociativo. Puoi scegliere una scena della tua vita, la più bella, e riviverla. Cosa faremo? Quale sarà il lavoro? Sarà mettere insieme una musica, quella che più ti piace, a questa scena molto bella, e poi anche uno stimolo visivo, uditivo, cinestetico, per fare che cosa? Per poterlo unire a un gesto che fai di solito, quando è ok, quando va bene, quando fai così. Qualunque sia, l'importante è che ti permette di essere nella peak performance, ovvero sia nel momento di picco emotivo, dove tu dai il meglio, eccellenza nella performance. Quindi questo sarà uno studio straordinario, dicevo, condizionamento neuroassociativo, per poter legare i momenti più belli della tua vita e riviverli costantemente nel momento della performance. Giusto per chiudere questo concetto, per quale motivo far questo? Perché il nostro scopo è essere la migliore espressione della nostra vita. E voglio chiudere con questa frase, ricordandoti, ci vediamo appunto sabato 16 novembre 2019 al Barion, Bari. Bene, una frase dello zio Mike, la partita della vita non la vince chi ha le carte migliori, ma chi sa ben giocare quelle che ha. A sabato, ciao!